Buongiorno, Filippo Diodovic dalla sala operativa di IG di Milano. Tanta attesa per la Federal Reserve di stasera. La Bank of Japan ha già sorpreso i mercati lasciando invariati tassi, ma modificando il quantitative easing. L'obiettivo infatti del piano di acquisto di titoli di Stato non è più solamente la ripresa dell'inflazione, ma soprattutto il controllo dell'andamento della curva di rendimenti, soprattutto per i titoli di Stato di lungo periodo. La Bank of Japan è tra le prime banche centrali al mondo a cercare di attenuare gli effetti negativi sul sistema finanziario, tassi di interesse negativi. Ora i riflettori sono chiaramente puntati sull'appuntamento in serata della Federal Reserve, l'appuntamento infatti del meeting del FOM che è diventato di notevole importanza per sciogliere gli ultimi dubbi degli investitori sulle strategie di politica monetaria della principale banca centrale al mondo. Crediamo che siano molto basse le possibilità che la Commissione operativa della Fed possa decidere di rialzare i tassi di interesse già da oggi. Nonostante le dichiarazioni di alcuni esponenti del Board sui rischi di surriscaldamento per l'economia USA, le bolle speculative, e nonostante anche i report di alcune banche d'affari che giudicano efficiente per la Fed di alzare il costo del denaro il prima possibile, riteniamo che lo scenario più probabile sia invece quello di un aumento del costo del denaro solamente nel mese di dicembre, per due ragioni principalmente, in primis perché i dati macroeconomici ancora non sostengono una nuova stretta monetaria. Inoltre la Yellen non ha alcuna intenzione, sembrerebbe che non abbia alcuna intenzione di aumentare le tensioni sulle piazze finanziarie alla vigilia di elezioni presidenziali a novembre che si stanno mostrando molto combattute. Ci aspettiamo quindi un dollaro debole nelle prossime settimane. Con questo è proprio tutto, buon trading!